Superate le 4.000 vittime in Italia per coronavirus, sono 4.032 morti, con un incremento rispetto a giovedì di 627. È il maggiore incremento dall'inizio dell'emergenza. Il dato è stato reso noto dalla protezione civile. Ieri l'aumento era stato di 427. Sono 5.129 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 689 in più di ieri. Il dato giornaliero sui guariti ieri era stato di 415. Sono complessivamente 37.860 malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a giovedì di 4.670. Il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime guariti, ha raggiunto i 47.021.